Estra distribuisce 17,5 milioni di dividendi ai comuni tramite le società Consiag Prato, Coingassarezzo, Intesa Siena, Viva Servizi Ancona, che in assemblea dei soci hanno approvato il bilancio d'esercizio 2020. Più di 10.000 foto caricate, 200.000 visualizzazioni e 6.400 alunni. Roar, il progetto di educazione ambientale di Estra e Straligut Teatro, ha premiato le classi vincenti di Toscana, Umbria e Marche. Lavoro in corso di centri alla società di distribuzione di Estra nella zona centrale di Malmantile, frazione del comune fiorentino di La Strassigna, per la sostituzione della rete gas. È in pieno svolgimento il concorso letterario Raccontami una storia di Eccoci Cooperativa Sociale, sostenuto da Estra dedicato al tema delle energie nelle forme più varie, aperto fino al 31 giugno. Grazie a tutti!